Guardate che bello qua, probabilmente questo è un posto dove questo artista dipinge, non so. Guardate che quadri, sono veramente giganti. Contate che io sono un metro e settanta e il mio braccio arriva qua. Questo qui mi piace molto. Sono venuto qua perché parlavo al telefono con Bea, una mia amica cantautrice che sta venendo a salutarmi. Mentre parlavo con lei ho visto questo. E' un posto particolare questo. Torno in studio. E' venuta a trovarci Bea. Devo far finita di fare la scaletta. Come stai? Tutto bene, grazie. Grazie alla mia bandiera. Bella. La resistenza. Di collegno. Di collegno. Lampi di collegno. Può sentire questa preview. Ma sì, è tanto un vlog. Cazzo c'è. Ma sì, ancora. Noi siamo indipendenti. E' resistenti. E' resistenti. Esatto. Poi Bea ha portato i colori in questa giornata grigia. Un po' di reportaggio anche della zona. Hai visto qua ragazzi? Bellissimo. Esatto. Qui abbiamo dei giovani sudamericani ai quali chiedere i pareri. Noi ogni tanto usciamo e chiediamo scusa ma qua che... Quanta Sud America c'è? Quanta Sud America c'è secondo te. E poi questa è una puntata, una nuova puntata di Bocciofila Saitta. Perfetto. Non so le bocce. Cioè non sarà... Dove sono? Ce l'hai tu le bocce? Ecco le bocce. E qui si abbassa immediatamente il... Quelli che faremo no. Sono venuti a trovarci anche Davide. The Yes to Go. E' un video? E' un documentario? E' un vlog, è un documentario. Ci sono i pinguini. E poi c'è il solito dendi. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Paolo ha appena detto, stasera c'è un'unica cosa da fare che è andare all'Oxanax e siamo tutti preoccupati perché è un periodo molto difficile, troppe feste insieme, però Paolo dice che non si può prescindere. Inevitabile. Sì, è come un imbuto che ti porta lì. Che ti porta lì. Comunque tu ti butti, capisci? Esatto. Finisci sempre nel basement praticamente. La figura che stai parlando, sai io sono vecchio, ragazzi. Sono vecchio per fare l'amore. Dai, i piatti di film di... No, vabbè, questo non puoi metterlo nel vlog. No, questo me lo testo. Guarda che ti fa muovo. Luizetto è una persona orribile. Vediamo delle prove. Ma poi ci sarà... Questo farà parte tipo dei contenuti extra. Cioè non farà parte del vlog. Se non queste cose te lo do io il contenuto. Saranno il culo. Ma comunque è strano che un alto faccia il basso. All'ingresso qua. L'amore che filosofia ti ho lasciato andare via. Sempre stato sul cazzo il new metal. Cioè c'è una luce pazzesca qua. Pogna? Pogna ancora con il culo. Qua? Cosa vuoi? Cosa vuoi? C'è un vlog. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Questo cos'è? Un violino? No, ma anche se... Adesso è una sottichetta. Come una foto, ecco, ecco. Guarda, guarda il passino. Bella questa cosa che ci uccide persone scelte perché non si conosce. Madonna, veramente. Ho creato un super film. Abbiamo talmente a cuore il primo singolo di Rudi Zalita. A caso, però. A caso, sì, a caso. E poi vai a ritornare l'uguale, ma anche l'azzo. Yes. È il reference. 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 E adesso è il turno del maestro alla chitarra. No, 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 no. fine giornata siamo soddisfatti adesso ciao guzzello domani torni a roma è un cazzo è la tua bella faccia adesso pedini amofracti e niente adesso vado all'iper e questa è la giornata abbiamo fatto le chitarre ci siamo fatti le chitarre ci siamo fatti le chitarre il parcheggio e questo è Torino saluta il guzzino saluta guzzino è nervoso è nervoso